Partiamo da Paradiso 31, versi 52-54. La forma generale di Paradiso, già tutto mio sguardo avea compresa, in nulla parte ancor fermato Fiso. Lo sguardo di Dante ha già abbracciato, nel suo aspetto complessivo l'Empireo, il cielo di Dio, cielo che è pura luce e amore, amore del vero bene, pieno di una letizia che trascende ogni dolcezza, come ci aveva detto nel canto trentesimo del Paradiso. La milizia santa dei beati si presenta a Dante in forma di candida rosa, il più bello e il più nobile dei fiori. La delicatezza di un fiore si sostituisce alla immagine diffusa, certamente più grave, delle pietre della città di Dio. Per questa rosa volano incessanti gli angeli, che qui appaiono proprio come gli uomini in forma visibile, non più a stratti cerchi geometrici, come nella rivelazione narrata nel canto ventottesimo del Paradiso, ma creature alate, pur raffigurate nel modo più smaterializzato possibile. Volti di fuoco, ali d'oro, e l'altro tutto bianco. Ma ora come andare oltre? Come chiudere dopo tanti anni il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra? Certo occorreva dare un'immagine di Dio, conclusione ardita, ma teologicamente non proibita, perché il cristianesimo è la religione della rivelazione. E rivelazioni durante il viaggio ce n'erano anche già state. Se pensiamo per esempio al punto luminoso circondato da centri concentrici di Paradiso 28, oppure più indietro al trionfo di Cristo e di Maria nel canto 23, sempre del Paradiso. A cosa? O meglio a chi ricorrere ora per mostrare Dio? Tante non ha dubbi. Alla donna che lo ha portato in grembo. Alla vergine madre. Alla figlia del suo figlio. Alla donna umile e alta più che creatura. È lei infatti il termine fisso dell'eterno consiglio, il termine stabilito nel tempo dall'eterno per l'incarnazione e la salvezza, segno altissimo dell'amore di Dio. E se non dimentichiamo che Dante pregava quella donna ogni giorno, il mattino e la sera, non sembrerà troppo azzardato credere che in prossimità degli ultimi e supremi versi del suo poema, Dante le abbia davvero chiesto aiuto. Maria, tuttavia, non è solo presenza affettiva e devozionale, ma è una potente presenza poetica, come dimostra l'altissima preghiera che apre il canto finale. Qui Maria non è una luce, come era apparsa nel cielo delle stelle fisse, ma è una donna, una persona. Maria ha infatti un viso del quale Dante può apprezzare la somiglianza con quella di Cristo suo figlio. Dice Dante ai versi 85-87 del trentaduesimo canto riguarda o mai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a vedere Cristo. Quando San Bernardo dice queste cose, che cosa significa? Cosa significa che Maria somiglia a Cristo? Certamente si può cogliere una somiglianza genetica madre-bambino, ma vorrei ricordare che Maria come Cristo è, mentre Dante ha la sua visione, già assunta in cielo con il suo corpo ed è dunque già interamente persona, rivestita della sua carne gloriosa e santa. Questo, il suo privilegio, ha la sua peculiarità rispetto alle altre anime della candida rosa. Per ottenere la grazia suprema in favore di Dante, dunque, l'ultima guida, Bernardo, si rivolge a Maria e per intercessione di lei avviene la rivelazione finale di Dio. Per prepararci a capire e ad apprezzare le terzine finali del poema, cioè la visione di Dio, vorrei innanzitutto ricordare con Michele Barbie che la Divina Commedia è una profezia, una rivelazione, una rivelazione. E vorrei ricordare con Giorgio Padoan che Dante era cristiano fervidamente e sinceramente credente e viveva in tempi in cui si dava a queste cose un peso assolutamente diverso da quello che ci ha abituato alla mentalità moderna. Minimizzare, o peggio negare tutto ciò, significa rinunciare a capire perché Dante potesse chiamare sacro il suo poema. Significa rischiare l'alea di un totale fraintendimento della Commedia. Non sono solo opinioni di critici, anche accreditati. C'è qualcosa o qualcuno di più autorevole che ci spinge a interpretare questa visione come vera, reale, profetica. E Dante stesso, nell'Epistola 13, a can grande della scala che io credo autentica e tutta dantesca. L'Epistola ci dice che ciò che caratterizza la Commedia come la Sacra Scrittura è il senso della lettera. Esso non va inteso come invenzione fantastica, non è insomma una bella menzogna, come si dice nel convivio, né come depositario di un'allegoria elaborata dall'autore che deliberatamente vuole dire altro rispetto alla lettera, ma come portatore di avvenimenti accaduti che a loro volta significano altre realtà. Del resto che Dante volesse che la Commedia fosse letta come istoria risulta evidente anche dagli esempi biblici allegati nella parte finale dell'argomentazione. L'esperienza di visione in essi narrata, sulla cui verità per il poeta non sussistono dubbi, è infatti equiparata a quella sperimentata dal pellegrino ultraterreno. Quali sono questi esempi? San Paolo, rapito al terzo cielo, la trasfigurazione e la visione del profeta Ezechiele. Nella sua trattazione Dante ritiene che questi esempi di visioni realmente avvenute siano davvero paragonabili alla sua. Il richiamo poi alle tre autoritates che segue, il decontemplazione di Riccardo di San Vittore, personaggio che si è trovato nel canto decimo del paradiso, il deconsiderazione di Bernardo, proprio l'ultima guida, e il decantitate anime di Agostino, lì presente nell'Empirio vicino a Francesco e a Benedetto. Ecco, questo richiamo, mentre ribadisce il rapporto tra oltraggio della memoria ed excessus oltreumano, da conferma circa la possibilità di una reale ed eccezionale esperienza di Dio compiuta in vita. Ma possiamo credere che Dante abbia avuto realmente questa visione? Lui semplice uomo? Lui sconfitto dalla vita? Lui esule ramingo? Lui peccatore? Sì, possiamo. Come c'è sempre nell'Epistola 13 l'esempio biblico di Nabucodonosor. La grazia miracolosa non è invalidata dal suo stato di peccatore, né d'altra parte deriva dalla sua virtù o dai suoi meriti. La grazia è una scelta d'amore gratuito voluta da Dio amore. Non è quindi senza significato che amore sia il denominatore comune delle tre immagini finali della Divina Commedia. Per comprenderle, allora, è indispensabile coglierne il carattere religioso e precisamente cristiano, altrimenti il suo senso più intimo rimane muto. Nella religione ebraica e poi nella religione cristiana, che sono, come sappiamo, religioni rivelate, non è l'uomo che vede Dio, ma è Dio che si mostra all'uomo. Questo aspetto è decisivo. Il rischio, infatti, sarebbe quello di un ribaltamento periscoloso di prospettiva, orientata a una antropomorfizzazione del divino, insomma un Dio creato a immagine e somiglianze dell'uomo, quando invece è vero il contrario. Questa prospettiva salva la dottrina dell'incomprensibilità di Dio, che è tema riguardante l'uomo e la sua finitezza. Tale incomprensibilità determina tutto il conoscere dell'uomo, che perfino nella gloria della beatitudine riconosce con gioia l'eccedenza divina. In proposito si può ricordare come si mostra Dio a Elia nella visione narrata nel primo libro dei re, capitolo 19, versetti 9-13. Dio non è nel vento impetuoso, nel terremoto, nel fuoco, ma in una brezza leggera. Insomma è Dio che sceglie come mostrarsi e lo fa qui nel modo più delicato. Quando leggiamo la visione finale della commedia occorre dunque che anche noi mutiamo la prospettiva. Non è l'uomo Dante che va incontro a Dio, ma è Dio che va incontro all'uomo Dante, perché, come ci dice la prima lettera di San Giovanni, è Dio che ci ama per primo. Così qui nell'Empireo Dio concede a Dante di vedere ciò che vuole che l'uomo Dante veda. Questa è la vera e propria essenza del cristianesimo, l'agape o caritas. L'amore di Dio non è ascendente ma discendente. Torniamo al testo del poema. Dante si abbandona alla luce e Dio gli si rivela. Il divino si esprime in tre immagini, libro, cerchi, volto umano, a dire rispettivamente tre misteri, l'unità nel molteplice, in sostanza l'ordine del creato, la trinità e l'incarnazione. Innanzitutto il volume. Leggiamo i versi 85-93. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò chi dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo chi vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo. Così spiega Mirko Tavoni. La prima cosa che Dante vede quando arriva a fissare lo sguardo in Dio, la prima delle tre immagini in cui consisterà la sua visione di Dio non è Dio, ma è il mondo. È l'immagine del libro dell'universo e della storia ricomposti e riconciliati in Dio, ovvero la forma universal di questo nodo, l'unità del tutto armonizzata dall'amore divino. Ficcando infatti il viso per la luce eterna, Dante vede che nella profondità divina si raccoglie in un volume, rilegato con vincolo d'amore, ciò che sotto i nostri occhi si dispiega a pagine sciolte. Dante coglie dunque il senso ultimo dell'esistere. È la riconciliazione in Dio della creazione, quella individuale del poeta come quella dell'umanità intera. È l'assunzione, nell'amore di Dio, di tutta la realtà. Il poeta finalmente vede l'unità dell'esistere, di cui vivendo nel tempo cogliamo solo un frammento. Meditando questa immagine non dobbiamo dimenticare che il cristianesimo è la religione del libro sacro. Dante usa, perfino come rimante, la parola volume. Qui però non è un volume nel senso etimologico di rotolo, ma è un libro per fascicoli, secondo la forma più diffusa di libro del medioevo, quella che era anche lì sulla sua scrivania e si chiamava commedia. Il volume papiraceo o pergamenaceo, una volta fabbricato, è già tenuto insieme dalla sua struttura materiale. Il libro invece è sfascicolato. Se qui la rilegatura è l'amore di Dio, allora l'immagine significa che il mondo è tutto legato insieme dall'amore di Dio e dunque tutto con un destino di bene. Il senso è bellissimo ed è reso più intimamente con la forma intensitiva pronominale mi sento, come traccia residua della visione. Dante cioè crede in quella visione perché può raccontarla e provare piacere raccontandola. Dopo il volume abbiamo i cerchi, leggiamo i versi 115-120. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre ciri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea reflesso e il terzo parea foco che quinci e quindi ugualmente si ispiri. Nella profonda e limpida essenza della luce divina, Dante vede ora tre cerchi di tre colori diversi e della medesima dimensione. Il suo è dunque uno sguardo che trascende le possibilità dell'ottica terrena. Un cerchio sembrava riflesso dall'altro, come un arcobaleno si riflette da un altro arcobaleno, mentre il terzo cerchio pareva fuoco che emanava con la stessa intensità degli altri due. L'immagine esprime efficacemente la compresenza dell'unità e della trinità, tre cerchi che ora si distinguono per i loro tre diversi colori, nonostante siano al tempo stesso indestinguibili, perché essendo di identico diametro occupano la stessa porzione di spazio. Questi tre cerchi non si possono disegnare e sono solo vagamente immaginabili. A proposito dell'immagine della trinità infatti i vecchi commentatori ne erano scontenti, obiettando che se i tre cerchi sono di una contenenza debbono essere sovrapposti e quindi non si può scorgere il diverso colore di ciascuno di essi. Se non sono sovrapposti sono invece concentrici e quindi non uguali tra loro. Qualcuno ha avvicinato allora questa immagine ai cerchi trinitari secondo la visione di Gioacchino da Fiore, come si può vedere nel manoscritto duecentesco del Liber Figurarum, ora conservato nella biblioteca del Seminario Vescovile di Reggio Emilia. L'immagine si trova alla carta 12 recto. Tuttavia siamo a mio parere fuori strada per cogliere la potenza e la profondità dell'immagine dantesca. Innanzitutto occorre insistere sul fatto che questa visione dantesca è impossibile da disegnare, ma è rappresentabile con le parole. Ed è la grandezza della poesia di Dante sull'ultimo scorcio del libro. Nonostante tutte le dichiarazioni di ineffabilità ed insufficienza, la poesia riesce a esprimere ciò che non si può disegnare e rappresentare. Solo la parola, solo la poesia, ha la forza di esprimere il metafisico. A questo punto Dante esprime una preghiera che troviamo ai versi 124-126. O luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. O luce eterna, che sola in te stai, sola puoi comprendere te stessa e nell'atto di comprenderti ti ami e ti sorridi. Questa terzina, così perfettamente tornita in cui spicca il sorriso divino, richiama alla memoria un'altra rappresentazione della Trinità, nel canto in cui Salomone illustra il dogma cristiano della risurrezione della carne. Paradiso 14. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due e in uno, non circoscritto e tutto circoscrive. Ma anche in precedenza, nel canto precedente, il 13, lì si cantò non bacco, non peana, ma tre persone in divina natura e in una persona essa e l'umana. Dunque Dante ha visto Dio, per grazia. Ora probabilmente un platonico o un neoplatonico o un mistico si sarebbero fermati, felici di naufragare nel mistero di questo mare. Dante no, e infatti prosegue. Dante è un poeta cristiano, il più grande poeta cristiano, ed ho soprattutto il poeta della realtà terrena conservata nell'aldilà e nell'eternità, come ci ha insegnato Erich Auerbach. E dunque la visione di Dante continua. Leggiamo i versi 127-132. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso, dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso è tutto in lei tutto era messo. Dante penetra con lo sguardo nel secondo dei tre cerchi e gli sembra di vedere, dipinta del medesimo colore, l'umana effigie, cosicché la sua vista è tutta concentrata in essa. Cristo è vero Dio e vero uomo, e il mistero dell'incarnazione è strettamente congiunto al mistero della Trinità. L'aver conservato e definitivamente fissato l'unità della figura umana nel mondo ultraterreno è ciò che distingue fondamentalmente la commedia da tutte le precedenti visioni dell'oltretomba. Nell'aldilà della commedia è contenuto infatti il mondo terreno. Inoltre l'amore cristiano è radicalmente l'amore del Dio personale, agape o caritas. Esso, come abbiamo già detto, va innanzitutto ed essenzialmente dall'alto verso il basso, perché Dio ama la sua creatura, e questo non per necessità di parteciparsi, ma in personale libertà. Tra l'altro l'espressione la nostra effigie ritorna pochi versi più avanti nel latinismo imago, che mentre si riferisce ancora al volto di Cristo implica un riferimento alla creazione dell'uomo da parte di Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. La carità, l'amore, è dunque ciò in cui più risplende l'immagine divina nell'uomo. Ora, che tipo di visione è quella di Dante? Una visio corporalis, come nell'episodio della trasfigurazione? Una visio spiritualis o immaginaria, come quella di Pietro a casa di Cornelio? Oppure una visio intellettualis, come quella di San Paolo? Secondo me è una visio corporalis, la grande audacia della commedia è narrare lo stato delle anime dopo la morte viste da un vivo, dunque in anima e corpo. Dante, infatti, non vede come farebbe un puro metafisico o un estatico, cancellando la propria esistenza finita per risolversi nell'assoluto e nel sovraindividuale. Ma come deve fare un cristiano che è stato collocato nella storia ed è responsabile di essa? Ecco perché, nella preghiera alla Vergine Madre, che apre solennemente quest'ultimo canto, Bernardo aveva chiesto che Dante, dopo aver contemplato Dio, possa mantenere la sanità delle sue affezioni, cioè perché i sensi e la vita del poeta siano preservati dagli effetti dirompenti della visione di Dio. Ora torniamo a questa visione. L'effigie dentro il cerchio, l'umanità inserita nel divino, aveva avuto già un'anticipazione nel canto 14, il canto della carne gloriosa abbiamo detto, quando Dante nel cielo di Marte vide il segno di una croce greca in cui lampeggiava Cristo iscritta in un cerchio e anche lì la memoria vinse l'ingegno. Ora per l'effigie del Cristo dentro il secondo cerchio si è pensato alla Maestas Domini. In questo motivo iconografico sono infatti di solito presenti l'arcobaleno, il libro, le dita a indicare il 2, la natura umana e quella divina, e il 3, le persone della Trinità, mentre la mandorla ovale indica il rapporto tra cielo e terra. Per esempio Mirko Tavoni ha rimandato alla Maestas Domini affrescata intorno al 1290 da Manfredino da Pistoia nel catino absidale di San Bartolomeo in Pantano a Pistoia, oppure l'affresco nell'oratorio di Onorio III, catacombe di San Sebastiano a Roma, 1216-1227 circa, oppure il timpano del portale centrale della facciata ovest della cattedrale di Chartres che risale ancora prima al 1140-1150 circa. Allora queste raffigurazioni sono sicuramente suggestive, ma la visione di Dante è diversa, a partire dalla forma, visto che il Cristo, vero Dio e vero uomo, non è iscritto in una mandorla ovale ma in un cerchio. Secondo me dunque per cogliere meglio l'immagine occorre pensare a qualcos'altro. Mi sono chiesto dove poter trovare un cerchio che contenga il corpo di Dio e dunque la sua effigie. Ecco a mio parere nell'ostia. Gli studi specifici rivelano che ai tempi di Dante le particole non erano molto diverse da quelle odierne, ce lo dimostra per esempio il razionale Divinorum Officiorum di Guillaume Durant, diffusissima enciclopedia liturgica scritta probabilmente intorno al 1280. Ecco a proposito della forma delle ostie, Gielm scrive così Ostia autem formatur rotunda, quia domini est terra et plenitudo eius orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Et ipsa sui forma significat illum, qui principio caret et fine, quambis ipse sitte alfa et omega, principium principiams absque fine. Rursus, cum figura rotunda, formetur apunto ad puntum, peroc inuitur quod abibso sunt omnia, et ad ipsum omnia retorquentur, unde salmista peritas tua in circuito tuo. Per produrre le ostie esistevano come oggi degli stampi e proprio nel secolo XIII risale la diffusione di nuovi stampi in ferro formati da due valve incernierate, una delle quali incisa con il numero, la forma, le iscrizioni o le immagini sacre della particola da ottenere, e poi collegate a lunghi manici per la presa durante la cottura. Quanto ai soggetti rappresentati erano diffusi, oltre ai cristogrammi, la crocifissione, la risurrezione, l'agnello crocifero, mentre era più rara la natività. Questo dell'ostia con all'interno una rappresentazione cristologica è un dato suggestivo se pensiamo all'immagine che Dante sta descrivendo, cioè quella dell'effigie del Cristo dentro un cerchio. Ma l'ostia cos'è? L'ostia è l'immagine più comune e più vera di Cristo, Dio e uomo, per un cristiano. È la nuova casa di Dio sulla terra, diciamo pure del Dio che per amore si è fatto uomo. È il simbolo del suo corpo, quella carne gloriosa e santa che si contempla nell'Empireo. Credo che per comunicare ai suoi lettori la sua ammirabile visione Dante possa aver cercato quanto di più percepibile e semplice un cristiano potesse capire e apprezzare il pane eucaristico. Con questo mistero di un Dio fatto uomo e di un uomo fatto a immagine di Dio, la visione straordinaria, nova, si chiude. È questo il limite di fronte al quale Dante ha voluto si fermasse il suo poema. Il mistero d'amore personale della divinità umanità gli viene come in una folgorazione, in un breve attimo svelato. Il poeta non dice più nulla, all'alta fantasia mancò la forza, ma Dante non si arresta ex abrupto. Il movimento non cessa, Dante sente pienamente l'amore di Dio, quello che muove l'universo. Il movimento che egli adesso comprende non procede dal mondo verso Dio, non è quindi movimento della nostalgia e della volontà di ritorno, bensì proviene da Dio. Dante placa la sua lunga inquietudine, sia nei suoi riflessi personali, sia nell'aspetto generale, nel sentirsi parte dell'ordine universale. Dio come muove il sole e le altre stelle, così muove anche lui, infinitesima parte dell'universo. Dante comprende di partecipare al ritmo vitale impresso da Dio in ogni creatura. Nella coscienza di questa partecipazione al bene il travagliato poeta si acqueta. È la consolante conclusione del suo poema, forse della vita, il suo Nunc dimittis. Grazie a tutti. Grazie a tutti.